Buongiorno a tutti, anzi grazie per l'invito ovviamente e saluto tutti gli autorevoli illustri ospiti presenti. Saluto con favore il passo avanti che Meloni e Fratelli d'Italia hanno compiuto insieme a qualche altra forza politica che nonostante prima accompagnarono tutta la nostra operazione in Europa con molto scetticismo e poi ricordo quando questi soldi arrivarono con loro forse grande sorpresa dissero che rimanevano una gran fregatura e non andavano presi. Oggi c'è un notevole passo avanti, sono pochi e si può discutere addirittura se andranno ben spesi o meno, diciamo che è una prospettiva completamente diversa. Vorrei ricordare, visto che parliamo di PNRR che credo è al centro anche del dibattito di questo convegno, di questa conferenza permettetemi di salutare il ministro Mara Garfagna per l'invito e di ringraziarlo ancora per questa possibilità che mi offre. Vorrei ricordare che a tutti i cittadini italiani, non solo del sud e del meridione che ci stanno seguendo, che se noi abbiamo avuto quei soldi dall'Europa, non è stato solo perché ci siamo impegnati molto, ovviamente per ottenerli, ma ci sono stati dati dall'Europa proprio per il fatto che noi abbiamo il sud, la questione del sud. Cioè tra i criteri di assegnazione c'è stato soprattutto, e hanno pensato molto, il livello della disoccupazione e il livello pro capite al sud che sono entrambi due livelli molto bassi. Quindi quando noi oggi di quei 200 e rotti milioni andiamo ad assegnare 80 miliardi al sud tra il Recovery Facility e React EU, quegli 80 miliardi sono dovuti. Il sud ci ha consentito di portare l'intero a montare a casa in modo così cospicuo. E se diamo dei dati, ci rendiamo conto che la questione del sud va affrontata in modo strutturale e organico. Vi do solo qualche dato, così forse qualcuno è stato già anticipato, ma può servire molto, perché io ho molto apprezzato il lavoro fatto da Ambrosetti, lo studio di Ambrosetti sul libro bianco, come anche il progetto Mare che è stato presentato a Confindustria. Allora diciamo che le premesse per qualsiasi politica per il sud devono essere radicate sui dati. Sicilia, Campania, Calabria e Puglia sono le aree non italiane, attenzione, europee con il tasso di occupazione più basso. Al sud vive un terzo di italiani, ma si produce solo un quarto di PIL. Solo sette porti dei 34, si parla qui di economia del mare e del sud, sono collegati a infrastrutture ferroviarie. Tra il 2008 e il 2018 la spesa pubblica per investimenti al mezzogiorno si è più che dimezzata. Pensate, è passata da 21 a poco più di 10 miliardi. E per questa ragione che quando mi sono insediato ho iniziato a lavorare per un piano organico e strutturale per il sud. E vorrei ricordare che nel febbraio 2020 noi abbiamo presentato il piano per il sud. La prima volta che veniva presentato un intervento sistematico e organico, veniva offerta una visione complessiva per il sud, una strategia complessiva, addirittura decennale. Per gli anni 2020 e 2030 abbiamo presentato col ministro del sud Provenzano, adesso vice segretario, lavora con Enrico Letta che saluto, è lì presente, ho visto. Abbiamo presentato a Gioia Tauro, una città significativa del sud, nel febbraio 2020 questo piano. Di lì nascono tutte le misure strutturali per il sud. Direttore, se ho qualche minuto, me ne bastano tre, potrei elencarli a beneficio del... No, anche volendo, non glieli posso, infatti che non voglio, però ne sono molto lieto. No, no, potrei, il moderatore, alle chiavi del dibattito. Ha ragione, allora Calenda... No, no, scherzo, scherzo, no, no, scherzo, prego, prego, Presidente. Dal, vede, quel piano per il sud, quel piano per il sud nascono tutta una serie di misure che ovviamente oggi, secondo me, in questo dibattito vanno vagliate e approfittando anche della presenza di leader delle forze politiche, e su questo ci dobbiamo misurare. Siamo d'accordo o non siamo d'accordo? Innanzitutto, diciamo, questi 80 miliardi, diciamo che per il sud e il PNRR, siamo tutti d'accordo che sono dovuti, anzi forse potrebbero essere anche di più. Siamo d'accordo, mi sembra, sul fatto che le ZES sia uno strumento importante. Io vorrei ricordare che quando mi sono insediato le ZES erano due, e le ho portate a sette, alle attuali sette, e ho lavorato anche per migliorare la governance, consapevole che occorreva, come dire, porre a capo dei comitati di indirizzo delle ZES dei commissari straordinari. Con il decreto semplificazione del Conte 2 ho favorito la nomina di questi commissari e a questo punto benvengano quindi le finalizzazioni di queste nomine. Ricordiamo anche che sempre nel Conte 2 abbiamo previsto il taglio del 50% delle imposte per le imprese che si insediano nelle ZES e tra le nostre proposte qui, che sottopongo all'attenzione dei colleghi, c'è anche per il futuro l'ascendibilità dei crediti d'imposta per ZES, per rimettere più liquidità nelle imprese che operano in queste aree. Poi ancora, la misura del fondo Cresci per il Sud, anche per rafforzare con pagini societarie, la vogliamo o non la vogliamo? Allora, se la vogliamo, noi l'abbiamo istituita durante il Conte 2 e potenziamola, perché è un strumento fondamentale per far crescere le imprese al Sud. Ancora, il resto al Sud è una misura che io ho potenziato, non ho istituito ma potenziato, però ha consentito di offrire incentivi a chi ha un'età tra 18 anni e 55 e sostiene la nascita, lo sviluppo di nuove realtà imprenditoriali, ma anche libero professionali. Anche questa, negli studi che abbiamo fatto, è stata fondamentale. La sosteniamo, rifinanziamo il resto al Sud e poi permettetemi, una misura a me molto cara, per cui ci siamo molto battuti che considero veramente debba essere resa strutturale e invece in scadenza. Ecco, qui vorrei sapere il Governo che cosa ne pensa. De Contribuzione Sud ha consentito uno sgravio contributivo del 30% per le aziende del Mezzogiorno. Presidente, lei è in maggioranza, lei dice voglio sapere dal Governo, ma perché non glielo chiede? Lo sto chiedendo infatti, questa è un'occasione per parlare in termini strutturali... De Contribuzione Sud, guardi, lo sgravio fiscale del 30% per le imprese che riguardano tutti i lavoratori in forza o in neoassunti. Quindi, solo nel 2021, nel primo semestre, ha portato 600 mila nuove assunzioni al Sud, area tra, l'abbiamo visto, tra le più disoccupate d'Europa, per un totale di 1,8 milioni di lavoratori coinvolti. E poi i contratti istituzionali di sviluppo su cui non mi soffermo. Ecco, e poi ancora la decontribuzione al 100% per le lavoratrici donne nella legge di bilancio del 2000. Ecco, su queste misure siamo d'accordo? Perché io sul Mediterraneo allargato, sul Mediterraneo core, su questi progetti, ovviamente sono assolutamente visioni strategiche, sono d'accordo. Però confrontiamoci anche su misure concrete. Grazie.